La carica e il carisma, ma anche la visione e la capacità istantanea di lettura delle situazioni di campo. Paolo Sousa è mancato mercoledì scorso nella gara con la Fiorentina e la sua assenza in panchina si è sentita nonostante il grande lavoro del suo staff. Proprio con le sue scelte in corso d'opera, ad eccezione la gara di La Spezia, dove si assunse la responsabilità del cambio con cui tolse Piontek dalla contesa, Sousa ha inciso tanto sulla classifica della Saritana e contro la Fiorentina c'è stato il rammarico della sua squalifica che forse ha avuto come conseguenza la non tempestività dei cambi dopo il terzo vantaggio siglato da Dià. La Saritana ha infilato il decimo risultato utile consecutivo pareggiando l'ottava gara delle 11 con Sousa in panca, 14 punti conquistati dal momento del suo arrivo, un margine di 8 punti sulla zona di recessione dove Verona e Spezia lottano tra loro ma devono anche guardarsi dalla Cremonese che è stata ad un passo dall'impresa in casa del Milan. Cinque gare da giocare e 15 punti in palio, tutto ancora aperto anche perché tra sabato e domenica si giocheranno due gare molto importanti e cioè Cremonese e Spezia e Lecce-Verona. Lunedì alle 18.30 toccherà la Saritana a scendere in campo al Castellani, lo stadio dell'Empoli che ieri sera è tornato al successo tra le Muramiche e danni del Bologna alla sua seconda sconfitta esterna di fila dopo quella di Verona. Toscani più affamati e motivati e del resto in questa fase della stagione l'aspetto motivazionale conta tantissimo. L'Empoli ha raggiunto la Saritana in classifica e il lunedì sarà sfida tra squadre che vedono molto vicino il traguardo della salvezza. La voglia di non mettersi nei guai e la possibilità di conquistare un sol colpo quei punti che mancano per la tranquillità. Su dei piatti della bilancia peseranno considerazioni di segno opposto ma che possono trovare cittadinanza in questa fase del campionato quando la stanchezza fisica e mentale è una componente da non sottovalutare. La Saritana regge da due pari di prestigio contro Napoli e Fiorentina e punta a restare imbattuta per dare continuità alla sua classifica. Lo sprint finale è stato ormai lanciato ed il discreto margine sulle inseguitrici dà una certa sicurezza ma non autorizza ad abbassare la guardia. Il ritorno di Sosa in panca sarà importante ma in campo vanno sempre i calciatori. Mancherà per squalifica Braderic che dovrebbe essere rimpiazzato da Mazzocchi. A destra potrebbe giocare Kastanos ma c'è anche l'opzione Sambia. In tal caso il Cipriota sarebbe confermato in posizione più avanzata con D.A. e probabilmente Butaim. Maggiore invece tornerebbe in corsa per una maglia nell'ipotesi in cui Kastanos giocasse da laterale destro. Resta da capire se Candreva sarà o meno a disposizione. In mezzo al campo spazio alla sana Kulbali e Vilena in difesa. Invece Ghiomber potrebbe riposare dopo il problema muscolare accusato con la Fiorentina. L'ovato Trostecong potrebbero sostituire il cielo dentro del reparto. Certa la conferma di Perola. Daniel che è entrato stavolta in diffida dovrebbe giocare sul centro-destra dopo essere partito dalla panca contro la Fiorentina.